buongiorno e benvenuti in un nuovo blog allora oggi per me domenica ce ne abbiamo oggi domenica 19 febbraio tempo di che speriamo che non piove però vabbè veramente allora sono cioè non sto facendo colazione adesso ma già mi sono svegliata da un pochino perché francesco è andato a lavoro da praticamente uscito di casa da 10 minuti quindi ho aspettato lui chiacchierato un po con lui visto che ieri sera è tornato tardi perché oltre dove lavora lui francesco fa anche altri lavori diciamo per conto suo quindi è tornato alle 2 meno un quarto quindi giusto l'ho salutato e stamattina abbiamo un po chiacchierato e adesso quindi faccio colazione tanto ragazze allora ieri ho fatto delle pulizie veramente che era da tanto c'è cose proprio da spostare tutto proprio c'è infatti chi mi segue su instagram ne ho parlato anche lì ho cercato di pulire un po di fughe qua diciamo del pavimento non proprio tutto e tutto perché se no io penso che stava ancora qua in ginocchio a pulire diciamo che io cerco di fare quelle che poi vedo più più sporche più nere specialmente quelle sotto alla cucina praticamente lo spazio quello lo faccio tutto perché comunque stretto lo faccio tutto perché comunque lì sono quelle che si sporcano di più ovviamente perché io raga non uso il tappito all'inizio ho proprio all'inizio ho cercato di usarlo però raga io lo odio perché a parte che cinciampo ho usato l'unica eh penso poi si sporca e lo dividavo poi io cioè lo lavavo un giorno sì eppure l'altro perché poi mi dà fastidio si sporca subito e quindi ho tolto da mezzo e quindi ovviamente il pavimento sotto alla cucina si sporca molto spesso e quindi ho dovuto fare queste fughe e devo dire che dopo vi faccio vedere per esempio prima ho guardato proprio qua e ce ne sono due che è un po' strano perché io di qua ho fatto si vede che o non ci ho passato e vabbè non fa niente la prossima volta le voglio fare però sotto alla cucina è venuta abbastanza pulito diciamo che le fughe che prendono perché che raga capita che può cadere qualcosa l'unto e quindi la macchiolina ci rimane sempre io mangio perché se si fa latte freddo a me non piace io non so se c'ho ah ecco c'è l'obiettivo riavvicinato dicevo se si fa latte freddo ragazzi a me non mi piace vabbè comunque ho fatto veramente tante cose di cui poi ho fatto un'altra cosa che dopo vi mostro ve l'ho parlata anche su instagram e sono veramente contentissima per quanto riguarda la mia postazione make up dopo vi faccio vedere nel pomeriggio ragazze per la prima volta farò un dolce tipico umbro si chiamano struffoli sono grandi noi struffoli napoletane ne facciamo quelli piccoli piccoli sono degli struffoli grandi sempre con il miele e oggi voglio provare a farli perché a cristiano piacciono tantissimo anche a me non è che ne vado proprio però ovviamente se c'è me lo mangio ci manca ass e quindi oggi è facilissimo e raga però io sono sempre se sono fatta così quando faccio una cosa per la prima volta c'ho sempre l'ansia anche se si dico perché poi mi dispiace che non viene bene quindi ti ho detto a cristiano non ci metto proprio il pensiero al 100% perché non si può mai sapere però vabbè ci provo e quindi oggi faremo questa ricetta insieme so che deve stare comunque un'ora a riposo in frigo quindi l'impasto lo farò dopo pranzo tanto oggi a pranzo saremo solo del francesco e quindi subito dopo pranzo vi metterò a fare l'impasto così ovviamente se stanno più di un'ora non succede niente però comunque almeno un'ora in frigo di riposare e vabbè raga io faccio colazione e poi tanto dopo vi faccio vedere sia le fughe come sono venute e poi anche la postazione quello che ho fatto sono un po' felice e quindi ci vediamo dopo Allora ragazze ho rifatto un attimo il letto prima ho chiuso eh ho tenuto aperto ma adesso ho chiuso ho alzato anche la tenda perché noi esternamente abbiamo la tenda che in estate comunque l'abbasso perché di qua comunque c'è molto sole e ieri sera l'abbassata perché avendo i panni fuori ho detto se scende almeno l'umidità me li copre diciamo non va proprio l'umidità sui panni infatti sono anche asciutti dopo li tolgo perché così almeno ovviamente non faccio prendere altro l'umidità a parte che non c'è però sono asciutti e mi sa che è puro caso di toglierli comunque allora ragazze vi volevo far vedere ho acceso anche la luce la postazione adesso devo dire che è tutta un'altra cosa perché ripeto lo spazio è il giusto adesso perché comunque ragazzi uno quando si trucca prende talmente tante cose i pennelli il fondotinta e la cifra e le palette quando la tenda la puoi tenere aperta e ti trucchi è molto più comodo e quindi adesso io ovviamente vi giro e vi faccio vedere ecco qua ragazze cioè ditemi voi se non è tutta un'altra cosa cioè prima lo specchio praticamente avendo il cassettino sotto il cassettino arrivava qua e questo era lo spazio che io avevo e quindi era scomodo sì avevo questo po' di qua ma comunque ragazzi era scomodo cioè invece così è tutta un'altra cosa ma ho lasciato stare che ho messo questa candela qui io questa poi la tolgo lo specchio ovviamente me lo tengo di qua lo rialzo con una scatola e comunque ho tutto questo spazio che ragazzi veramente è molto molto più comodo e sono veramente soddisfatta ieri mi è presa proprio sta fantasia ma era già da un po' che lo pensavo l'unica paura nostra era che comunque visto che dietro al muro qui c'è la doccia io non volevo forare proprio mettere gli stop dentro queste cose qua perché comunque abbiamo paura che comunque dietro ci sono i tubi non sia mai quindi cosa ho fatto? ho messo tanti chiodi qui io ho fatto così a U che così comunque regge molto molto bene lo specchio perché comunque raga lo specchio non è poi così leggero e quindi la paura comunque c'era che potesse poi cadere non sia mai ripeto no Pash fortuna perché mi dispiacerebbe enormemente perché comunque come sapete questo è stato un regalo e quindi mi sarebbe dispiaciuto proprio tanto ovviamente praticamente la staffa con il cassettino l'ho conservato perché come vi ho detto poi ieri non si può mai sapere in futuro poi cosa ho fatto? perché per capire se questi chiodi reggono ho fatto un segno qui ma voi non lo vedete credo con la matita per capire se lo specchio praticamente scende mi allontano perché se no si fa buio scende e devo dire che fino adesso è tutto a posto quindi comunque ma poi pure Cristian ha visto ha detto no ma reggono e quindi veramente sono molto molto soddisfatta qui sopra ho solo aggiunto ovviamente i profumi perché ce l'avevo messa in altra parte mi era scomodo e sono veramente raga soddisfatta qui ho lasciato questi due portoggetti e la mia composizione che avevo fatto per i 25 anni di matrimonio mi piace tantissimo l'unica cosa forse il quadro stavo pensando di spostarlo e metterlo comunque un pochino più al centro perché adesso avendo questa composizione me lo copre però ragazzi questa composizione io non so se la terrò sempre qui perché aspettate che vi giro dicevo visto che comunque io dovrò fare un altro mobile questa credenza diciamo di là in sala cucina che comunque avendoci vetri voi vedete quello che c'è dentro mi piacerebbe anche metterla all'interno non so se ci entra e sarebbe secondo me difficile quindi se rimane qua spostarlo un pochino questo quadro metterlo un pochino più qua così almeno si vede perché comunque un po' lo copre vabbè queste sono tutte cose che si può fare ho fatto questo sicuriamoci a spostare un quadro quanto mi ci vuole niente e quindi vedo vedo un po' di spostarlo e poi ragazzi un'altra cosa come avevo detto sempre ieri in diretta su Instagram nel mio cassetto qui sono riuscita a mettere anche i fondotinta vi faccio vedere giusto per così perché comunque devo dire che ci sono chi mi seguo che gli piace vedere la mia postazione come organizzo quindi per quelle due tre persone che me lo chiedono spesso adesso comunque ve lo faccio vedere tanto ovviamente ve l'ho fatto già vedere come ho organizzato ma vi faccio vedere dove ho messo i fondotinta ho messo diciamo quelli là che adesso sto usando in questo periodo perché comunque raga io di qua ne ho lasciato mi sembra due quello là della Pure Beauty perché è estivo diciamo lo uso in estate perché è più scuro è un altro della Wet n Wild che poi secondo me quello lo dovrei anche buttare perché comunque è vecchio ce n'è pochissimo dentro quindi ho lasciato solo quelli adesso vi faccio vedere qui ecco qua ragazze li ho messi praticamente al fianco agli illuminanti ho messo questo qua che sapete che utilizzo sempre di Dior e poi ho anche questo qua che io mi ero dimenticata che questo qua io lo posso utilizzare anche adesso come colorazione di Essence che è fantastico che è molto leggero questo fondotinta veramente stupendo poi ho messo questo qua di Sephora Astra e questo qua che è veramente pochissimo all'interno di 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 e quindi l'ho messo qua perché comunque c'entrava e l'ho voluto mettere praticamente ho dovuto solo spostare ragazze la palettina questa qua degli illuminanti perché questa questa di Douglas perché comunque lì non mi c'entrava e allora ho detto vabbè la metto qua insieme alle altre palette e ciccia anche se è la palette degli illuminanti o qui ho tutte le palette occhi ma vabbè non fa niente e quindi ho lasciato messi qua ed è comodo raga perché comunque qui davanti c'ho le cose che si usano diciamo di più i correttori illuminanti fondotinta i rossetti e basta e poi vabbè qua c'ho le sia le matite tanto già vi ho fatto vedere senza che sto a farvi rivedere un'altra volta la stessa cosa perché poi sarebbe una noia ok ragazzi sono in cucina così vi giro e vi mostro diciamo dove ho passato le fughe si nota perché sono più chiare diciamo che io purtroppo non è che le ho fatte tutte perché ripeto da sola sarebbe impossibile cioè per fare un ambiente comunque credetemi è bello grande ci vorrebbe tanto tempo ci vorrebbe comunque una persona che ti aiuta quindi io cerco di fare sempre quelle là che vedo più sporche ecco e quindi quelle che mi premono di più sono sotto la cucina cioè questo punto qua tutta questa zona qui io la faccio tutta e se potete anche notare adesso vi faccio vedere comunque ci sono punti che è più chiare e punti più scuri perché comunque raga non è semplice farle venire proprio belle pulite pulite e cioè guardate quella come è venuta bella pulita cioè è tutta un'altra cosa comunque si notano che sono comunque più pulite sono più chiare per esempio prima quando facevo colazione perché poi ho controllato un po' a terra perché ho fatto comunque qui davanti vedete che sono più chiare essendo poi seduta qua guardavo e raga ho notato queste qua questa questa e questa cioè sono proprio quelle che non avrò fatto perché non ci ho passato però comunque non fa niente tutto sommato diciamo che ho cercato di fare nei punti ripeto che erano proprio belle nere e anche ripeto vicino al tavolo dove ci sediamo anche qui vedete che sono più chiare e raga ho fatto ho fatto diciamo il davanti al divano perché comunque qui uno ci si siede e vedete che sono tutte più chiare cioè è tutta un'altra cosa ho spostato anche il divano perché ragazzi ho sotto al divano vedete ho il tapis roulant aspettate che adesso vi spiego avendo messo il tapis roulant sotto al divano comodissimo ragazzi questa cosa è molto comoda perché io lo tiro fuori metto la spina e faccio qui il tapis roulant non so se sapete ma all'interno va messo tipo un olio ogni tanto perché se no il tapis roulant si rompe nel spostare tutto ho notato che secondo me un pochino perde questo olio ma è normale e quindi mi aveva fatto proprio una fuga ma non nera di più cioè proprio nera nera ho detto oddio ovviamente ho passato l'aspirapolvere ci ho dato questo prodotto raga è venuta bianca cioè fortunatamente si è tolta tutto anche se dietro al divano non si vede però sinceramente non ci sono rimasta perché comunque raga in futuro uno non si può mai sapere vuole spostare o vuole cambiare è peccato se si rovinano le mattonelle oppure le fughe e quindi fortunatamente è venuta benissimo cioè si è tolta ma era poco era una mattonella praticamente una striscia di una mattonella e quindi fortunatamente si è tolta perché sicuramente perde un pochino di questo olio e mi è andata a sporcare sta fuga fortunatamente vabbè ripeto si è tolta e ah vi faccio vedere a proposito anche il prodotto perché ieri ho detto su su instagram che l'avrei fatto vedere perché qualcuno di voi erano interessate a questo prodottino aspettate che lo prendo eccolo qua aspettate perché è sporco un po' di ieri che ovviamente cola il prodotto è questo ragazze metto bene bene così vedete è ottimo poi c'è anche un buon profumo e io sempre di questa linea qua ho anche il prodotto per pulire il forno credetemi è eccezionale viene benissimo il forno e questo aspettate no questo è lavapavimenti io ce l'ho anche per il forno ah mi sa che sta di qua perché ovviamente quello lo faccio ogni tanto sono più prodotti che io non uso sempre quindi ce l'ho da un'altra parte questo ve lo faccio vedere eccolo qua infatti c'è proprio lo spray vedete ed è questo qui è fantastico questo prodotto questi prodotti qua li usano anche le cucine dei ristoranti ed è veramente ottimo forno griglie e cucine dissolve residui grassi e carboniosi comunque questo prodotto è fantastico questo qua se ne ricordo male dovete prima un pochino riscaldare un pochino il forno poi ci andate a sprozzare questo qua e lo lasciate agire ma non mi ricordo per quanto tempo e poi dopo andate a pulire raga bene che ne abbomba veramente ottimo un ottimo prodotto veramente sono rimasta proprio soddisfatta infatti di questo qua ho anche il prodotto per il pavimento ma sapete che ero convinta che l'avevo finito peccato perché se no da ieri lo finivo eppure questa ha un profumo eccezionale ma me lo metto davanti sinceramente lo finisco aspettate un attimo perché ok questo è quanto tu film dell'andamopera raga comunque ottimi veramente prodotti perché comunque specialmente anche quella per il forno non hanno cose chimiche dentro quindi ottimo veramente lavo le mani perché c'è un po' le mani appiccicose ho toccato quelle bottiglie niente ragazzi voglio anche fare un attimo il letto di francesco poi mi lavo mi cambio e pulisco il bagno perché così a rifare i letti non fa niente perché tanto non devo fare nulla raga ieri ho fatto l'impossibile vi faccio i letti come vi ho detto pulisco il bagno passo solo l'aspirapolvere credetemi non spolvero neanche perché l'ho fatto ieri ma anche no che spolverà fa la tavola e basta e poi cucino perché c'è francesco che finisce a luna torna a casa e alle due e mezza deve riscendere per andare a lavoro e quindi voglio fargli trovare proprio pronto c'è piatto a tavola quindi mi adopero che le sono 11 meno 20 a posto l'impossibile l'impossibile allora ragazze ho preparato tutto per fare gli struffoli tanto poi dovranno riposare un'ora in frigo e quindi li faccio adesso così dopo pranzo ho l'impasto già prunno invece di farlo lo metto proprio a cuoce li cuocio praticamente tanto mi farò vedere allora io ho preso una ricetta ragazzi su youtube ebbene vi dico questa ricetta ma voi basti che andate su youtube scrivete stroffo di umbri vi escono molte ricette ce ne sono di vari tipo io ho scelto questa che a essere sincera come lo sono sempre è la più semplice anche come ingredienti e quindi ho detto per adesso provo questa e poi in futuro vedrò allora ragazze per gli ingredienti 270 grammi di farina 00 3 uova 50 grammi di zucchero semolato 20 ml di olio di oliva 3 cucchiai di cuore all'anice e mezza bustina di lievito istantaneo per dolci ok vabbè ovviamente ci servirà dopo l'olio per friggere il miele c'è pure chi ci mette il il kermes quella cosa rosso quel liquido rosso a noi non piace quindi io non lo metterò quello e quindi andremo solo dopo poi a connerli con il miele ma non tutti perché due o tre adesso vedo quante me ne escono le lascerò così diciamo normali perché comunque se domani ci sarà l'amare il miele non piace possiamo sciogliere un pochino la nutella e ce la può mettere sopra e quindi le posi possono fare anche così volendo ragazzi se vi piace e niente ragazzi ho preparato già tutti ovviamente gli ingredienti e inizio ovviamente prima tanto ragazzi ho scritto tutto ovviamente vabbè dividere i tuorli dagli albumi quindi mettere l'albume no il tuorlo scusate con lo zucchero montare proprio ragazzi devono diventare chiari poi aggiungere l'olio e la farina setacciata con il lievito e amalgamare il tutto montare a neve ben ferma gli albumi ed aggiungerli al composto e per l'ultimo il liquore all'anice mescolare bene il tutto e mettere a reposare un'ora in frigorifero quindi raga questo è quindi l'inizio vedrete poi il procedimento e poi ragazzi vi farò sapere anche come sono speriamo bene quindi vado un'ora Grazie a tutti. 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 Ciao. Ciao. Ciao.